Cremona è stata in epoca romana teatro di battaglie leggendarie. Gli storici locali identificano un anno specifico come il più rappresentativo da questo punto di vista. Nel 69 d.C. infatti la città venne contesa da ben quattro imperatori a causa del grande valore agroalimentare che le veniva attribuito e che le conferisce un posto d'onore nella storia dell'impero romano. Cremona nell'anno dei quattro imperatori. Allora questa storia comincia con la morte di Nerone. Subito prende il comando dell'impero Galba e sale sul trono nel giugno stesso del 68 che sarebbe la morte di Nerone. Però dura solo fino a gennaio. Galba è un imperatore che è durato in carica sei mesi. Viene tradito dal numero due. L'altro pretendente che era Otone. Otone prende il comando nel gennaio del 69. Otone aveva preso in mira la città di Cremona che era molto florida e già in quel tempo era una riserva romana per quanto riguarda l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Quindi si insedia nella stessa Cremona. Però così suscita la curiosità e le mire di un altro generale che vuol diventare imperatore che si chiama Vitellio. Allora avviene la prima battaglia di Bedriacum vicino Cremona detto in italiano più o meno Calvatone che è un luogo famoso perché fu trovata la vittoria lata. Otone muore probabilmente in battaglia. Vitellio suscita anche lui le mire del quarto generale che si chiama Vespasiano. Questa battaglia è avvenuta nell'ottobre del 69. Vespasiano diventa imperatore. Ci sono stati dei combattimenti non solo a Bedriacum ma anche vicino le mura. C'è stato un grande saccheggio di Cremona che è durato quattro giorni.